Siamo qui a New York sulla Fifth Avenue e alle mie spalle c'è il Fladyron Building. Il suo nome prende spunto dalla sua forma, infatti Fladyron in inglese significa ferro da stiro. Per anni è stato uno degli edifici più alti di New York, 69 metri, 21 piani e molti dubitavano che avesse resistito alle grandissime raffiche di vento che proprio in questo punto si concentrano per via della forma. Ma a distanza di anni è ancora qui intatto.